Si trova all'interno del Museo dei Mezzi di Comunicazione ad Arezzo la stazione radioamatoriale che nella notte del 4 novembre 1966, giorno dell'alluvione di Firenze, Carlo Luigi Ciappetti misa a disposizione del prefetto per collegare Firenze e coordinare così tutti i reparti necessari ad arginare l'emergenza. Ed è nel giorno del cinquantesimo anniversario della grande tragedia che il macchinario è stato al centro di un doppio appuntamento per raccontare e soprattutto non dimenticare il drammatico episodio. Questa apparecciatura è quella che nel 1966 egli stesso prestò al prefetto della città di Firenze, che era una città alluvionata, la mattina stessa del giorno 4, prestò questa apparecciatura che ancora era funzionante in quanto questo dottor Ciappetti abitava un po' in collina, diciamo, rispetto alla piana di Firenze, per cui l'acqua non c'era arrivata. Questa apparecciatura quindi fu portata nella prefettura di Firenze e da questa fu collegata per la prima volta la Firenze alluvionata con il mondo esterno utilizzando una catena di altri radioamatori che servivano i vigili del fuoco, che servivano la Croce Rossa, gli ospedali e le altre polizie e così via, in modo che questa catena avesse la possibilità di interloquire tra loro e di interloquire più che altro con il mondo esterno per la richiesta di aiuti. Grazie.